Può un semplice simboletto grafico, un segno grafico, modificare l'impatto che ha ciò che scrivi su chi legge ciò che scrivi? In altre parole, può un semplice segnetto grafico determinare la qualità di ciò che scrivi, quindi influenzare la piacevolezza, la psicologia di chi ti legge? Ciao a tutti, ancora da Gennaro Romagnoli, questo è il mio osservatorio psicologico dove parliamo di psicologia e degli articoli scientifici emersi, pubblicati nel mondo anglosassone. Come sempre, nella maggior parte di questo nostro osservatorio, andiamo a pescare dal sitolo di psychologytoday.com. L'articolo di oggi è molto interessante per chiunque si stia approcciando a scrivere per prima cosa un articolo scientifico, se sei un ricercatore apri bene le orecchie, se stai scrivendo la tua tesi di laurea apri bene le orecchie, se stai scrivendo la tua tesina delle scuole superiori apri bene le orecchie. Questo in realtà vale probabilmente un po' per tutti e adesso vediamo perché. L'articolo è stato scritto da Christopher Bergland, l'abbiamo già citato tante volte, che è autore di The Athlete's Way in Psychology Today. Il titolo è One small hyphen in a title could diminish academic success. Scusate l'inglese. Significa un piccolo trattino nel titolo può diminuire il successo accademico. E in particolare questo articolo, che è uscito il 3 giugno del 2019, ci racconta che un enorme mole di articoli scientifici sono stati studiati da Zoe e i suoi collaboratori, i quali hanno scoperto qualcosa di davvero impressionante. hanno scoperto che il semplice inserire un trattino, il meno per intenderci in italiano, il nostro meno, all'interno del titolo accademico diminuisce l'impact factor. Che cos'è l'impact factor? Sarebbe una percentuale, un numeretto, un voto, che viene dato ad ogni articolo scientifico in base a quanto viene condiviso e citato in altri articoli scientifici. Più volte il tuo articolo scientifico viene citato da altri articoli scientifici, più si alza il tuo impact factor. Questo può dipendere da tante cose, lo sappiamo da anni, può dipendere anche dal prestigio del nome che ha citato la ricerca. Cioè se io faccio una ricerca insieme a Daniel Kahneman, anche se faccio una ricerca sull'ovvio, è probabile che venga citato di più che se faccio una ricerca insieme a Pinco Pallino. Ora, vediamo però qual è l'aspetto più interessante di questa ricerca. Sento un po' di casino qua sotto. Ok. L'aspetto più interessante di questa ricerca arriva da questo grafico che non si riesce tanto a capire da lì, ma che ti invito ad andare a vedere, dove viene dimostrato che la presenza di questo trattino diminuisce significativamente la condivisione delle ricerche. Ora, a noi cosa ce ne frega? Se non siamo dei ricercatori, cosa ce ne frega? Innanzitutto ce ne frega da un punto di vista etico ed intellettuale. Cioè sapere che una cosa così banale come la presenza di un trattino diminuisce l'efficacia di una ricerca al di là della qualità della ricerca è già un dato importante. Cioè mostra ancora una volta quanto la psicologia, cioè la percezione, o meglio, la percezione di qualche cosa influenzi la qualità, o meglio, quanto noi giudichiamo positivamente o negativamente quella determinata cosa. Il famoso l'abito che fa il monaco, no? Se io adesso mi vesto completamente in un modo diverso, probabilmente questo avrà un effetto, un impatto diverso su di te, al di là delle cose che ti sto dicendo. Un'altra cosa molto interessante è qualcosa di diretto, qualcosa di diretto e che ci può aiutare meglio a capire come funziona il nostro cervello, o meglio, a aumentare l'efficacia delle cose che scriviamo. Se ci dicono che il trattino ha questo effetto, senza sapere in realtà perché, non c'è una spiegazione a questo, anche se c'è un bellissimo articolo scientifico allegato, dovremmo smetterla di mettere i trattini. E dovremmo dirlo alle persone, smettetela di mettere il trattino, soprattutto se desiderate che i vostri articoli, ciò che scrivete, venga condiviso. Per cui, se stai scrivendo la tesi di laurea, e nella tua tesi di laurea, nel titolo c'è un trattino, ti consiglio sin da adesso, in base a queste ricerche, di togliere quel trattino, cercare di sostituirlo con qualcos'altro, puoi mettere una virgola o qualcosa del genere. Tra l'altro, all'interno di questo articolo c'è un video del New Yorkers, dove Mary Norris, in questo video, ci racconta le differenze tra virgola, trattino, inserendo anche questa variante. Quindi, la cosa interessante è questa, la nostra percezione viene modificata da piccoli elementi che di solito sono impercettibili per la maggior parte delle persone, ma che hanno un vero impatto sulla realtà, hanno un vero impatto, come sappiamo da molto tempo, come sappiamo dal verbale, non verbale, da come ci vestiamo, l'effetto alone, il priming, eccetera, eccetera, tutte queste cose hanno un effetto sul nostro cervello, studiarle, approfondirle, può aiutarci a, diciamo così, può aiutarci a costruire dei contenuti migliori, a cercare di capire anche come funziona, scusate, in modo retroingegneristico la nostra mente, e migliorare ciò che scriviamo. Tra l'altro, non so se lo sai, ma se viene a vedere i podcast di Psynel, hanno tutti un numeretto, il numero della puntata, 270, mettiamo il trattino. Nei prossimi giorni proverò ad eliminare questo trattino e cercherò di vedere se aumentano gli ascolti su Psynel, mettendo direttamente in pratica queste cose, perché io mi sento un empirista, un empirista scettico, un po' uno scienziato, che cerca di mettere in pratica queste cose. Nella maggior parte delle volte questo metodo funziona, anche se per caso, a me, a occhio, il trattino piace cento volte di più dei due punti, di un asterisco, di qualsiasi altra cosa. Purtroppo, o purtroppo, per fortuna, l'aspetto scientifico ha quasi sempre ragione. Per cui, provaci anche tu, se stai scrivendo la tua tesi, se stai scrivendo un articolo su internet, se stai scrivendo un semplice post su Facebook, se stai scrivendo la tesina delle scuole superiori, prova a togliere, a vedere se c'è qualche meno, toglilo e fammi sapere come va, come è andata. Quindi, ti ripeto, l'articolo è stato apparso su Psychology Today a nome di Christopher Bellagland, difficilissimo, ed è apparso il 3 giugno del 2019. Lo trovi su Psychology Today, vai a vederti anche il video. Mi scuso per i casini che ci sono qua sotto, ma fanno dei rumori, stanno asfaltando la strada da tre settimane. Probabilmente nel cartello non c'era il trattino. A parte le battute, mi raccomando, metti mi piace, condividi questo video. Ci vediamo al nostro prossimo osservatorio psicologico. Ciao!